la notizia di cui ci occuperemo nella edizione tra poco innanzitutto la cronaca nuovamente arrestata per stalking la 21enne Angela Lidia Esposito dovrà però portare il braccialetto elettronico torneremo sulla morte dei due sub a largo dischi ascolteremo la ricostruzione dell'accaduto le dichiarazioni di Pietro Sorvino il sub che ha recuperato i due corpi dal fondo del mare e sulle tragedie in mare di questi giorni sulla nostra isola interverrà il consigliere regionale Nicola Marrazzo con il caldo aumentano gli attacchi cardiaci ascolteremo i consigli del dottor Carmine Barile e dopo questo telegiornale come ogni giovedì lo speciale in diretta quest'oggi dedicato agli incendi che hanno avvolto l'isola Dischia ci vediamo tra poco come sempre subito dopo la pubblicità la ditta Laraspata porta nel tuo locale il gelato di qualità e tante grandi offerte cogli la nostra promozione speciale con l'acquisto di due cartoni a scelta di prodotti speciali Alemania come conchiglia alla nocciola 85 grammi intreccio ai frutti di bosco 80 grammi muffin al cioccolato scuro 90 grammi e tanti altri ancora riceverai in omaggio una vaschetta gelato motta al gusto stracciatella promozione valida fino ad esaurimento scorte Laraspata gli uomini del freddo sempre al tuo fianco abc cartoleria grandi offerte scolastiche su zaini, tracolle, trolley, seven ed invicta abc prezzi eccezionali su kit di cancelleria generica abc scopri il nuovo reparto outlet con zaini e tracolle con prezzi da 10 a 25 euro vienici a trovare siamo in via Iasolino a Dischia Porto abc cartoleria la scuola da noi costa meno immerso nel verde del suo giardino tropicale Hotel Terme Colella la vacanza ideale per chi sceglie l'isola Dischia camere categorie economy standard e vista mare tutte le camere attrezzate con servizi con balcone o terrazzo Hotel Terme Colella reparto termale attrezzatissimo per bagni fanghi, massaggi, cure inalatorie e cure estetiche terapie convenzionate con il servizio sanitario nazionale centro benessere due piscine termali di cui una coperta con idromassaggio ampia terrazza solarium ed un'attrezzata palestra serate piano bar cucina con specialità ischitane e tre menù a scelta ampia scelta di pietanze senza glutine sono ammessi animali di piccola taglia ampio parcheggio gratuito a Forio a 700 metri dal mare a pochi passi dal centro storico Hotel Terme Colella in una cordiale ospitalità familiare la vacanza ideale sull'isola Dischia la conchiglia nel centro di Forio collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora la conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani vastissima produzione propria di collane anelli e bigiotteria in argento corallo e pietre semipreziose personalizziamo la tua collana il tuo anello rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane in via Erasmo di Lustro dal 1973 la conchiglia tuffati in un mare di colori e preziose fantasie albergo Carlo Magno sull'isola Dischia un posto da sogno un panorama mozzafiato il luogo ideale per una vacanza speciale hotel 4 stelle tutti i comfort 4 piscine palestra camere e residence con arredamento in stile mediterraneo a pochi passi dai centri storici di Forio e di L'Acqua Meno con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo servizio navetta gratuito hotel Carlo Magno per una vacanza dove i sogni diventano realtà l'hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia cucina tipica ischitana e piatti mediterranei pesce sempre freschissimo per i tuoi momenti più belli per una serata speciale per cerimonie e matrimoni hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia emozioni uniche tra il cielo e il mare Mille Molliche artigiani del gusto Mille Molliche dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche il risultato? pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati per il processo di lievitazione usiamo il Criscito la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni da Mille Molliche trovi pane pane speciale pizze cornetti dolci ma anche primi secondi contorni e spizioserie da asporto l'arte del mangiar bene Mille Molliche artigiani del gusto vorrei un grande supermercato dove risparmiare è facile senza rinunciare alla qualità ce l'ho dove avere un bel reparto macelleria e trovare il pesce sempre fresco e anche la gastronomia con piatti caldi da portare direttamente a casa certo e sempre aperto tutti i giorni naturalmente dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica fino alle 13 e 30 finalmente a Ischia il supermercato che non c'era adesso c'è Sebon selezione bontà tutti i giorni stalking e braccialetto elettronico per Angela Lidia Sposato nuovo arresto per la 21enne Ischitana stavolta il giudice la restringe agli arresti domiciliari con l'aggiunta del braccialetto elettronico tragedia in mare alle formiche la ricostruzione degli ultimi minuti l'ipotesi più attendibile è che Lara avrebbe potuto veder morire il suo istruttore prima di chiudere gli occhi ai nostri microfoni il sommozzatore che ha partecipato al recupero dei corpi di Antonio Imanato e Lara Scamardella Onorevole Nicola Marrazzo basta con queste tragedie il consigliere regionale esprime grande commozione per le vittime degli ultimi giorni Alessia Piatti Lara Scamardella ed Antonio Imanato bisogna fare in modo che questi fatti non si ripetano in estate a causa del caldo aumentano gli attacchi cardiaci il caldo è nemico del cuore come tenere sotto controllo le situazioni a rischio i consigli del dottor Carmine Barile questa sera dopo il telegiornale lo speciale sulla stagione degli incendi che ha colpito l'isola d'Ischia ospiti l'assessore Francesco Rispoli ed il responsabile di Lega Ambiente Giuseppe Mazzara Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia apriamo come sempre con la cronaca gli uomini del commissariato di polizia d'Ischia diretti dal vicequestore aggiunto Alberto Mannelli hanno nuovamente tratto in arresto il 14 agosto Angela Lidia Sposato la ventunenne accusata di stalking nei confronti dell'ex fidanzato nella giornata di oggi il GIP Toscano ha convalidato gli arresti e ha disposto per la Sposato gli arresti domiciliari con l'applicazione col consenso della donna del braccialetto elettronico è questo il secondo caso sull'isola d'Ischia l'ex fidanzato in più occasioni aveva asporto denunce alla polizia segnalando tutte le fasi della condotta violenta posta in essere dalla ragazza nei suoi confronti diverse volte ha dovuto richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e ha avuto bisogno di cure mediche la Sposato era già stata arrestata il 27 luglio il giudice le aveva ordinato l'obbligo di dimora a Forio con l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione dalle 20 alle 8 del mattino era stato proibito inoltre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'ex fidanzato ma così non è stato la donna ha continuato ad infastidire pesantemente il giovane fino all'arresto di lunedì scorso la tragedia alla grotta delle formiche tra Ischia e Vivara secondo il subesperto Pietro Sorvino le due vittime Antonio Emanato e Lara Scamardella hanno sbagliato l'ingresso della grotta entrando in una stanza cieca e piena di sedimenti è stata alzata molta sabbia per questo non è stata ritrovata la via d'uscita ascoltiamo parliamo della tragedia a mare alle grotte delle formiche lo facciamo con Pietro Sorvino che tra l'altro subacqueo ha partecipato al recupero dei corpi erano da soli oppure erano in gruppo le due persone che purtroppo sono scomparse in immersione erano da soli erano il distruttore con l'Ara erano venuti a Ischia con un gommone di un altro gruppo subacqueo quindi con un altro istruttore e altre guide che hanno fatto un altro percorso grotta delle formiche quella principale sembra abbastanza grande e visibile ma loro dove erano entrate? da quello che abbiamo potuto vedere dove in effetti sono stati trovati i corpi hanno preso l'entrata laterale che non è una grotta vera e propria è come una stanza che va a finire subito nella sabbia una sabbia molto sottile che si alza facilmente è proprio la sabbia quella che ha creato i problemi per uscire dalla grotta sì perché a differenza della grotta principale che è molto più ampia molto più luminosa con più uscite e senza sedimento dove non è possibile alzare tutto quel polverone lì invece è stata alzata molta sabbia quindi da lì appunto l'impossibilità di ritrovare la via di uscita abbiamo saputo che le bombole dell'istruttore non erano sul corpo dello stesso ma erano vicine alla ragazza perché ma qui siamo appunto nel campo dell'ipotesi sembra che comunque sia stata ritrovata la copro che potrà fare chiarezza da istruttore e da genitore ritengo che lui abbia fatto l'impossibile per lasciare l'aria alla ragazza e di uscire fuori nel tentativo di chiedere aiuto agli altri subbo che erano presenti nell'immersione quindi uscire per poi ritornare per prendere la ragazza però lui non è riuscito poi a uscire dalla grotta no in effetti l'acqua torbida comunque la grotta che non conosceva è rimasto anche lui ancora a pochi metri dalla ragazza Franco Savastano dice usiamo il filo di Arianna sì ci sono diversi tipi di diciamo di standard per la penetrazione in grotta la grotta delle formiche è una grotta per esempio che è la principale che non ha bisogno di un filo di Arianna perché ha più uscite ha più luce e c'è sempre il contatto con la via d'uscita con una qualsiasi via di fuga lì fondamentalmente c'è stato un errore di ingresso si sono trovati in questa parte che non è mai battuta da nessuno tant'è vero che fra gli operatori abbiamo cercato qualche immagine ma nessuno ce l'aveva perché nessuno ci va mai si parla di brevetto la ragazza era senza brevetto ma che significa? senza brevetto in effetti può darsi che stava finendo il corso ci sarà sicuramente una cartellina di registrazione dove ha fatto gli esercizi e alla fine dopo appunto di tutti gli esercizi e dell'ultima immersione c'è il conseguimento del brevetto quindi è possibile che non aveva ancora il brevetto ma che era l'ultima immersione la penultima immersione di corso poteva fare le immersioni regolarmente? sì con l'istruttore in effetti una tredicenne può fare immersione con l'istruttore subacquea così terribile così preoccupante così pericolosa ne ho sentite dire di tutti nove morti in cinque anni io credo che in un solo weekend sulle strade italiane ne vogliono dieci volte tanto e la subacquea come qualsiasi altro tipo di sport ha i suoi gradi di rischio ma per questo vengono fatti dei corsi e vengono seguiti dei programmi di addestramento la stessa grotta delle formiche credo che sia stata visitata da milioni di subacquee ed è la prima volta nella storia che si registra un incidente lì poi tra l'altro è una profondità di 10-12 metri se non sbaglio sì questa è la cosa ancora più assurda che sono morti in 12 metri d'acqua e praticamente sotto al gommone intanto si dipanano i dubbi sulla morte dei due sub Antonio Emanato e Lara Scamardella una ricostruzione della triste storia di domenica 13 agosto seppure parziale e non ufficiale può essere ipotizzata dai dati inconfutabili emersi grazie alle interviste rilasciate a Teleischia e alle dichiarazioni che ci sono state riferite dai sub presenti sul luogo della tragedia vediamo il servizio si dipanano i dubbi sulla morte dei due sub nello specchio d'acqua tra il castello aragonese e l'isolotto di Vivara sui fondali delle grotte delle formiche sui tragici ultimi minuti di vita di Lara Scamardella a 13 anni Antonio Emanato 44 entrambi di Bacoli e sulla causa del loro decesso stanno lavorando la magistratura e gli inquirenti ma una ricostruzione della triste storia di domenica 13 agosto seppur parziale e non ufficiale può essere ipotizzata dai dati inconfutabili emersi grazie alle interviste rilasciate a Teleischia e alle dichiarazioni riferiteci dai sub presenti sul luogo della tragedia innanzitutto è bene precisare che i due sub l'istruttore e l'allieva sono entrati in una grotta secondaria del plesso delle formiche una grotta della quale non ci sono immagini nessun file è stato ritrovato sul web nessun filmato a detta dei sub più esperti dell'isola di Isch è stato mai realizzato una grotta angusta e dall'apertura particolarmente piccola a differenza di quella principale che vanta addirittura luce proveniente dalla superficie dell'acqua i corpi delle due vittime sono stati ritrovati in questa grotta semisconosciuta i sub professionisti Piero Sorvino di Isch e Paolo Ardizio di Napoli hanno recuperato già domenica pomeriggio il corpo di Antonio Emanato che si trovava poco dopo l'ingresso di questa grotta l'ara era in una cavità più estrema della stessa ed il recupero del corpo esigeva sommuzzatori con qualifica di speleologia subacquea le unità specializzate del corpo dei vigili del fuoco di Brindisi sono giunte sull'isola domenica pomeriggio in elicottero sempre il 13 agosto hanno effettuato alle 20 e 30 una prima immersione che ha permesso loro di individuare il corpo di Lara che poi è stato recuperato lunedì alle ore 11 altro dato importante risulta dallo stato delle bombole di aria recuperate sia quelle di Lara che quelle del suo istruttore erano completamente vuote quindi secondo gli inquirenti erano state completamente esaurite dai due sub siamo a conoscenza che il corpo di emanato è stato ritrovato senza le bombole la sua attrezzatura è stata recuperata al fianco del corpo di Lara che sulla schiena aveva ancora le sue bombole cosa sarà successo? quello che andiamo ad esprimere è un'ipotesi molto probabile ma sempre di un'ipotesi si tratta l'istruttore avendo notato che la riserva di aria di Lara era al limite le ha fornito la sua attrezzatura per poi cercare di risalire Antonio emanato sperava di poter successivamente ritornare con altre bombole piene per far tornare a galla Lara probabilmente per le sospensioni di sabbia causate dal pineggiamento o da altri motivi dovuto al momento di grande tensione e paura emanato non deve essere riuscito a ritrovare la piccola apertura di uscita ed è morta annegato la giovane Lara probabilmente anche se noi speriamo che non sia accaduto così ha visto prima morire l'istruttore amico e poi dopo aver respirato fino all'ultima riserva di aria ha chiuso gli occhi una vera tragedia noi speriamo davvero che questo drammatico epilogo non si sia mai verificato la morte di Alessia Piatti la diciottenne annegata venerdì a Citara e la tragedia dei due sub Antonio Manato e Lara Scamardella il cordoglio del consigliere regionale l'incola Marrazzo non possiamo fare altro che piangere queste giovani vittime dice Marrazzo ma anche fare in modo che queste tragedie non si ripetano sentiamo con l'onorevole Marrazzo un ischitano adottato però un ischitano che vive la nostra isola onorevole tragedia a mare davvero una cosa inspiegabile due tragedie a distanza di pochissimi giorni la ragazza a cava dell'isola e l'altra ragazza pochi giorni fa alla secca delle formiche dove una ragazzina di 13 anni che amava la vita che amava il mare ha perso la vita ed è stato un momento di grande dolore e a dire la verità la cosa che mi colpisce quando succedono queste cose immaginare i genitori oggi vedo che si sta continuando a interrogarsi sul perché e se la ragazza aveva o no il patentino e quant'altro io credo che la prima cosa che bisogna farlo dico per me stesso e per tutti rispettare la natura quando la natura sta in condizioni avverse è preferibile evitare purtroppo oggi non possiamo fare altro che piangere queste giovani vite che sono andate via ma fare in modo che episodi di questo tipo non succedano più problema sicurezza a mare torna attuale la sicurezza a mare in un posto come la Campania come Ischia come le isole è uno dei temi fondamentali che bisogna continuare ad affrontare metterci delle risorse quando più è possibile per fare in modo che anche il diportista della domenica capisca che cosa significa il rispetto degli altri il rispetto della natura e il rispetto degli altri bagnanti la regione Campania toccherà questi argomenti la regione Campania è impegnata nel dare la possibilità in tutti i settori di non essere più ultimi e anche il settore della diportistica che sta uscendo da una crisi lunghissima che ha attanagliato la nostra nazione e la nostra regione in particolare sta dando tutta la regione sta mettendo a loro disposizione risorse affinché ci siano nuovi natanti nuovi modelli e che il primo del nuovo deve essere la salvaguardia della salute dei nostri bagnanti dei nostri diportisti e ci saranno funerali separati per i due sub per il gestore del diving center Sea Point Antonio Manato la cerimonia funebre si svolgerà domani venerdì alle ore 11 sul molo sud del porto di Baia nei pressi della locale Capitaneria di Porto e sarà preseduta dal vescovo di Pozzuoli Gennaro Pascarella il presule che nei giorni scorsi aveva espresso la sua vicinanza e della chiesa flegrea alle due famiglie aveva dato la propria disponibilità per presidere ad una cerimonia unica dei due sfortunati sub la famiglia di Lara Scamardella però ancora sconvolta dalla tragedia ha optato per una funzione strettamente privata che si svolgerà a Monte di Procida comune di residenza della ragazza in data e orario ancora da stabilire le salme dei due sub sono state rese disponibili per le famiglie dopo l'esame autoptico che si è svolto oggi intorno alle 14 al secondo policlinico di Napoli con i medici legali incaricati dalla procura della Repubblica di Napoli che conduce le indagini sulla tragedia erano presenti anche i periti di parte per i dovuti rilievi a Bacoli e a Monte di Procida per domani è stata indetta una giornata di lutto cittadino cambiamo argomento riportare la legalità sulle spiagge della Campania è il primo fondamentale passo per puntare seriamente ad essere una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo è il commento del consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli sull'isola d'Ischia un primo parziale risultato della battaglia che i Verdi stanno conducendo per l'affermazione della legalità sulla spiaggia di Cava dell'isola a Forio è stato ottenuto la casupola abusiva segnalata alle autorità non c'è più sono tornati invece i personaggi che abusivamente fittano ombrelloni sdraio e anche i pedalò sulla spiaggia libera un fenomeno duro da debellare ma di fronte al quale non arretareremo di un passo assicura lo stesso Borrelli qualche mese fa la casa De Luciano sulla Borbonica fu devastata dall'incendio e subito è scattata la gara di solidarietà Don Gioacchino Castaldi responsabile della Caritas di Ocesana ha preso a cuore la situazione e si è adoperato per aiutare questa famiglia particolarmente sfortunata il sacerdote ha chiesto all'ingegnere Franco Trani di interessarsi del caso l'ingegnere ha messo insieme una squadra di volontari composta da operai volenterosi sensibili per mettere in sicurezza il solaio di calpestio dell'abitazione per consentire la revoca dell'ordinanza di sgombero dell'immobile l'ingegnere Trani e la famiglia Trofa Angelo con i fratelli e figli hanno lavorato lacrimente per mettere in sicurezza gli ambienti l'ingegnere Trani ha poi dato parere favorevole attraverso una perizia giurata al ritorno degli abitanti nella loro abitazione e sarà dedicata agli incendi che hanno avvolto l'isola d'Ischia in questa torrida estate la puntata settimanale dello speciale TG in onda questa sera ne discuteranno in studio l'assessore ischitano Francesco Rispoli che ha proposto l'istituzione delle sentinelle del territorio ed il presidente del circolo di legambiente Peppe Mazzara che ha presentato una denuncia ai carabinieri per stanare i piromani appuntamento quindi intorno alle 21.10 subito dopo questa edizione del nostro telegiornale sono stati prorogati al 5 settembre i lavori iniziati il 28 luglio scorso da parte della società Nettuno lavori subacquei per riparare la condotta fognaria sottomarina per conto del Levi nel tratto di mare parte la località Capitello nel comune di L'Acquameno i lavori sono effettuati con l'impiego di due sommozzatori Vittorio Guarracino e Francesco Amalfitano con l'ausilio della unità navale Polluce all'Acquameno entrano in azione i controlli elettronici dei varchi stradali da sabato 19 agosto infatti entrano in esercizio definitivo i varchi per il controllo di accesso alla ZTL pertanto nei giorni feriali dalle 18 alle 6 del giorno successivo e nei giorni festivi anche dalle 11 alle 14 sarà sanzionata mediante utilizzo della rilevazione automatica la circolazione veicolare non autorizzata nella ZTL di L'Acquameno con accesso da questi varchi varco 1 l'intersezione tra via Roma e piazza Girardi varco 2 l'intersezione tra via Pannella e via Circunvalazione ed il varco 3 Corso Angelo Rizzoli e l'intersezione con piazza Santa Restituti il caldo può essere nemico del cuore soprattutto se quest'ultimo non è in perfetta forma infatti è proprio in estate che si registra il più alto numero di attacchi cardiaci spesso purtroppo fatali per chi li subisce ne abbiamo parlato con il dottor Carmine Barile che ci dà dei consigli per tenere sotto controllo le situazioni a rischio sentiamo un caldo molto intenso e spesso purtroppo le notizie di cronaca registrano delle morti per infarto ci troviamo dal dottor Carmine Barile al quale chiediamo qual è realmente il pericolo per le persone che hanno problemi cardiaci ma anche magari per qualcuno avanti negli anni che non sa poi di averli questi problemi certo qui parliamo di persone che sono a conoscenza di avere per esempio una coronaropatia di soffrire di angina indubbiamente il freddo eccessivo è micidiale ma anche il caldo eccessivo può determinare attraverso un meccanismo completamente opposto cioè la vasodilatazione e la caduta dei valori pressori può portare a una riduzione dell'afflusso di sangue al cuore e quindi può portare delle tacchi aritmie un'angina e tanto è vero che noi spesso controlliamo le pressioni anche nel periodo estivo perché i pazienti che fanno uso di più farmaci per la pressione in determinate condizioni proprio col caldo umido che abbiamo può scendere ulteriormente alla pressione e quindi lui non se ne accorge e può avere poi dei problemi non solo a livello del cuore ma anche di ischemia e di emiplegie non dipiantiamoci che i mesi con maggior mortalità dell'anno paradossalmente non è tanto il periodo invernale per le malattie cardiocircolatorie ma è proprio quello là tra giugno e luglio cioè sui grossi sbalzi di temperatura e indubbiamente le buone regole la buona norma dice che bisogna mangiare piccoli spuntini non far affluire quindi troppo sangue in addome cercare di stare in ambienti ventilati assumere i farmaci ma sempre dire consiglio del medico eventualmente riducendoli controllare la pressione la frequenza avere insomma un po' di attenzione in più lo sport il calcio rinascita Ische e Isola Verde è stato affidato l'incarico di allenatore per la stagione calcistica 2017-2018 a signor Massimo Fontanella il presidente Pino Tagliaratela il direttore generale Isidoro Di Meglio e la società tutta augurano un buon lavoro al tecnico Fontanella e al direttore tecnico Ciro Bilarti in data 11 luglio l'associazione culturale da Ischialarte di Ila tramite il suo presidente Bruno Mancini ha sottoscritto un accordo con la professoressa Dalila Bucalfa per l'apertura di una sede operativa dell'associazione in Algeria abbiamo già avviato contatti con l'istituto italiano di Algeri per la condivisione di progetti culturali comuni ha commentato la professoressa Bucalfa sentiamolo lo avevamo già annunciato l'associazione di Ila di Bruno Mancini sbarca in Algeria vediamo con quali progetti innanzitutto professoressa Bucalfa come è stato questo incontro con l'associazione culturale di Bruno Mancini allora Bruno Mancini l'ho conosciuto tra mia amica la poetessa Angela Maria Tiberi di Latina e mi ha fatto conoscere il signore Bruno e il capo come lo chiamo io ha scelto di aprire una sede in Algeria la prima in Algeria a Blida dove vivo io e il progetto ha cominciato l'11 luglio e siamo tutti contenti abbiamo cominciato ho incontrato la signora Maria Battaglia la direttrice dell'istituto italiano ad Algeria e abbiamo parlato ho parlato con lei e abbiamo messo era contenta del progetto e mi ha detto che è pronta ad aiutare anche con consigli e stiamo facendo preparando le cose e adesso abbiamo iniziato abbiamo tanti iscritti alla Dira Blida ci sono delle pitture ci sono scrittori poete c'è Esma Medjeji con noi c'è Ben Meisa è un pittore riconosciuto a Blida c'è Metawi Murtar tutti quelli sono sono gente in Algeria ci stanno anche la gente che lavora all'università sarà un bel incontro culturale varie culture che si incontrano anche la canzone con Ayyub Mijehed un cantante giovane ma un talento meraviglioso lui scrive in arabo e con l'aiuto di altri scritti stiamo facendo la traduzione delle canzoni per metterle nel libro dell'antologia del signore Bruno Mancini e stiamo facendo le cose con arabo francese inglese così l'antologia sarà diverso questa volta e speriamo avere un successo così quasi tutti gli iscritti sono giovani è una una cosa giovane nuova e speriamo speriamo fare fare belle cose il progetto è un jumelage non lo so come si dice in italiano un jumelage entre Ischia e Blida così facciamo insieme le cose Alvia la sesta edizione di Gustafo Rio 2017 si comincia domani venerdì in piazza municipio con gli spacca paese l'esuberanza spassosa di Gerardo Amarant il tutto accompagnato dalla specialità con le patate in tutte le sue varianti sabato nell'ambito della manifestazione la notte bionda una serata con lo street food tipico della nostra Napoli con fritturine di ogni sorta e croquet a rallegrare la serata di sabato Capitan Capitone e Fratelli della Costa una ciurma che ha avuto un gran successo nel 2016 dentro questo nome bizzarro c'è Daniele Sepe sassofonista e guru della musica napoletana domenica invece il concertone della maschera con Roberto Colella e la sua band e la sagra degli antichi sapori domani venerdì alle ore 19 negli spazi antistanti la marina di Procida ci sarà la presentazione del volume Procidani quasi dimenticati a firma di Giacomo Retaggio alla scrivania l'autore che spiegherà le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere questo nuovo volume Marina Lebro responsabile editoriale che monitorerà l'incontro la professoressa Nella Anastasio che leggerà alcuni brani scelti dall'autore il giornalista Guglielmo Taliercio ed il presidente della marina di Procida Eugenio Michelino ed ora come sempre spazio al meteo vediamo che tempo farà sulla nostra regione per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni bene chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale e noi ci rivediamo invece tra poco dopo la pubblicità in diretta per parlare con i nostri ospiti degli incendi che hanno interessato la nostra isola a tra poco